Oggi 12 ottobre, siamo a 11 giorni della frana, qui siamo a Giampilieri, stiamo percorrendo la ferrovia che da Ponteschiavo arriva a Giampilieri. Ci sono alberi divelti, ma la maggior parte della terra è stata sistemata a gradoni, qui c'è un torrente, il torrente è ancora invaso dalla terra, il canale laterale di Gronda in basso dalla terra, sarà l'inaglio, l'ulto stranato. Stiamo andando pianissimo, perché siamo nella zona dei lavori, ancora si lavora, ancora la strada. Grazie. Le montagne sono al trapiombo, sulla linea faccaliaria. I binari stridano. C'è una via di un'altra stazione, San Paolo. Grazie. C'è un mezzo di lana che si sta buttando acqua per la polvere. Siamo proprio a Ponte Schiavo, Santa Margherita. Dessina, Pezzola, Briga Superiore, Santa Margherita, dice Cartella. La strada è quasi tutta libera, si vede solo polvere, fango vicino ai recinti delle case. C'è una macchina accostata alle case distruttate dal fang. C'è una macchina accostata alle case distruttate dal fang. C'è una macchina accostata alle case distruttate dal fang. C'è una macchina accostata alle case distruttate dal fang. C'è una macchina accostata alle case distruttate dal fang. C'è una macchina accostata alle case distruttate dal fang. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. I scienziari sono fuori servizio, ma forse ancora non sono stati inaugurati. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il sangue ormai si è solidificato.